Amici sportivi di YouTube, ben ritrovati, Juventino periferico con voi, buonasera a tutti ragazzi. Allora, in questo video ragazzi, in questo breve video, volevo soffermarmi anch'io nel dire la mia opinione su questo coronavirus che sta circolando in tutta Italia, che non ci voleva. Allora ragazzi, dico una cosa, è abbastanza preoccupante questa cosa qua, perché siamo soggetti a munirsi di mascherine, di tutto quello che ci circonda, vaccini anti-influenzale, antibatterico, di tutto. I ragazzi sono maggiormente preoccupato, ma non nel senso di uscire fuori di casa e di preoccuparmi di prendere qualsiasi contatto fisico o contatto umano, diciamo, nel prendermi questo virus. A parte che ragazzi, siamo soggetti a a pensare che siamo manipolati nel credere qualsiasi cosa. in telegiornale, in televisione, tutte le notizie che circolano di questo virus, adesso ragazzi siamo in allerta, adesso hanno anche fermato il campionato, mi pare aver sentito serie A, B e C, però perché, mi domando io, classica domanda, perché hanno bloccato oggi tutte le partite della serie A? Perché non potevano fermare anche la partita della Reventus, eppure si è giocato lo stesso. E poi, in Champions League, Champions League, che giocheremo contro l'Inter. Ragazzi, se adesso il campionato è fermo, ci sarà un bel casino nel recuperare certe partite anche per il calendario infrasettimanale e tutto quello che va dietro. A parte che ragazzi, il campionato, nel mondo del calcio, è la nostra abitudine nel parlare su YouTube così tanto per... Però ragazzi, con questo coronavirus che sta circolando in tutta Italia, in Lombardia, in la maggior parte delle nostre regioni... E' da preoccuparsi, ragazzi, è da preoccuparsi, perché non neanche da preoccuparsi... Se è talmente, come si dice, affetto da queste notizie che ogni ora ci martellano... In televisione o... Ragazzi, qui... Il problema, il problema ragazzi, il problema che sia... è che gli alimenti che noi prendiamo al supermercato, compriamo per le nostre famiglie, in qualsiasi cosa, anche nei banchetti al mercato, tipo... Come si dice... I banchetti fuori, tipo i fast food, anche quelli che vanno nel fast food, il McDonald's... Penso io... Ma anche tutti... Tutti quei mangiari cinesi, ragazzi, che adesso... Che adesso hanno... Hanno chiuso anche tutti i supermercati... Negozi... Non lo so, ragazzi... Scuole... Scuole, ovviamente... Per... Per... Per evenienza... Perché bisogna... Cioè... Però ragazzi... Eh... Cioè... Ma anche tutti... Tutti questi... Questi qui che vengono... In Italia... Cioè... Cinesi... Non lo so, adesso ragazzi... Tutta la gente... Cioè... Per carità... Non è colpa... Loro... Per carità... Non voglio aprire... Aprire... Eh... Come si dice... Eh... Discussione... Allora... Tanto... Però ragazzi... Eh... C'è... C'è... C'è troppa... Eh... Come si dice... Eh... Troppi cibi... Eh... Che non vanno bene... Eh... Cosa roba cinese... Eh... Non lo so ragazzi... Ma anche... Io lo penso così... Dopo ragazzi... Ognuno pensa... Ah... La sua maniera... Però ragazzi... Eh... È preoccupante il discorso... Cioè... Troppi... Troppi cibi... Troppi... Eh... Mangiare cinese... Adesso non lo so ragazzi... Ma anche tutti gli alimenti che noi prendiamo al suo mercato... Ma chissà quanti... Quanti giri hanno fatto prima di arrivare a noi... Adesso... Non lo so... Perché io non... Non mi... Come si dice... Non... Non mi... Cioè... Non mi interessa di economia... Così non... Non è che... Sono afferrato... Però ragazzi... Non... Non... Adesso... C'è da preoccuparsi per... Per questo... Coronavirus... Virus... Che sta... Impestando l'Italia... O... Le nostre regioni... Adesso... Non lo so... Adesso... Non lo so ragazzi... Beh... Questo è il mio pensiero... Non prendetela... Non prendetela... Proprio alla lettera... Oppure... Eh... Mi dite... Oh... Ma sei... Scemo... No... Ragazzi... Io... Esprimo il mio pensiero... Dopo... Certo... Ognuno ha un suo pensiero... Di dire le cose... Eh... Io dico la mia... Non sono... Non sono... Afferrato nella materia... Però... Visto che... Gli altri... Gli altri... Gli altri youtuber... Hanno iniziato... A fare video... Eh... Pref... Questa cosa qua... Queste notizie... Che circono... Su... Sui telegiornali... Su tutto... Va bene? Eh... E' anche giusto... Che... Eh... Che anche io... Piccolo youtuber... Eh... Fa... Cioè... Dica questa... Eh... Questo mio piacere... Va bene ragazzi... Io... Non lo so... Dittemi voi... Cosa ne pensate... Ma... È preoccupante... Perché è preoccupante... Però... Non stiamo lì... Non stiamo lì... A dire... Eh... Adesso... Cosa faccio... Tanto i vaccini... Non funzionano... Mi faccio... Mi faccio... Vaccinare tanto... L'influenza... La prendiamo... Lo stesso... E poi... Il bello... Che noi... Eh... Pensiamo... Che sia... Un'influenza... Da... Coronavirus... Che dopo... Non si sa bene ragazzi... Neanche... Se è influenza... Normale... Di stagione... Oppure... È... È... Quella cosa lì... Non lo so ragazzi... È quello che... È quello che... Mi... 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 Mi interrogo... E penso... Oh ragazzi... Ditemi la vostra... Adesso... Non lo so... Vediamo... Vediamo come si svilupperà... Nei prossimi... Nei prossimi giorni... Adesso... Andranno avanti per due o tre giorni... Adesso... Non lo so... Va bene... Comunque ragazzi... Niente... E... Scrivetevi al canale... Noi ci sentiamo la prossima volta... Nel prossimo video... E... Niente... Ragazzi... Bella a tutti... Bella... Bella... Vabbè... Vabbè... Ciao a tutti ragazzi... E... Vabbè... Bella a tutti... Noi ci sentiamo al prossimo video... Ciao ragazzi...